Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi. Ecco, vedo che anche oggi il segnale, non so, spero che duri, vedo che è un po' debole. Ecco, casomai trasmettiamo subito dopo, appena possibile, ecco. E vogliamo iniziare questa giornata pregando il Padre e vorrei affidare al Padre anche una persona dell'Alto Adige, ecco, che è mancata in seguito al Covid, ecco, la ricordiamo nella preghiera del Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, allora, spero che i miei amici siano collegati, perché qui non mi sembra. Ecco, il giorno di Vangelo di oggi, capitolo 17, versetti dal 7 al 10. Ci senti? Leggi tu perché Claudio non è in linea. Leggi tu. Dal Vangelo secondo Luca. Chi di voi... Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù disse, Chi di voi ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringerti le vesti ai fianchi e servemi. Finché avrò mangiato e bevuto. E dopo mangerai e berai tu. Avrà fuori perché hai eseguito gli ordini. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato... Quanto dovevamo fare. Scusate, ma c'è poco internet, poco campo, quindi portiamo pazienza. Allora, è un servo inutile che veramente, anch'io devo dire, ogni volta che si sente dire, non si riesce a capire come interpretarlo. Allora, chi di voi, se è un servo ad arare o a pascolare il gregge, e gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringerti le vesti ai fianchi e servimi. Finché avrò mangiato e bevuto. E dopo mangerai e berrai tu. Ecco, con il servo è normale che ci si comporti in questo secondo modo. Cioè che si richieda di fare il suo servizio. Sottolinea poi Gesù. Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? È una domanda che suppone la risposta no. Per il suo servizio è tenuto a fare questo e non è dovuta a una gratitudine. Perché fa parte, ecco, del suo servizio. Ecco, poi Gesù traduce tutto questo per noi. Così anche voi. La comunità. Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili. Ecco, quello inutile lì, come va interpretato? Ecco, ascoltando padre Silvano Fausti, ho sentito questa, diciamo, interpretazione. Inutile nel senso di senza un utile. Cioè senza un pagamento. Ecco, tu sei un servo e quindi appartiene al tuo padrone, non solo il tuo servizio, ma anche te stesso appartieni a lui. Quindi fare il servizio ecco, non ti dà nessun tipo di diritto di ricompensa. Cioè tu fai semplicemente quanto fa parte della tua condizione. Ecco, ma questo letto in chiave, diciamo, di padroni umani, certamente è una cosa tremenda. Ma se hai letto in chiave di un padrone, che è l'amore, che è Dio padre, che è tutto amore, dire sono tuo schiavo, vuol dire essere schiavo, proprietà, possesso dell'amore, totalmente a disposizione dell'amore. E l'amore, quando serve, quando si china per servire, non lo fa per una ricompensa, non lo fa per ricevere qualcosa in cambio, perché non sarebbe amore. Quando si ama per avere qualcosa in cambio, ecco, non è più amore. L'amore è gratuita. L'amore a pagamento, sappiamo tutti, ha un altro nome. Ma Gesù è venuto a insegnarci il vero amore. Ecco, allora proviamo a lasciarci accompagnare da Gesù a questo vero amore che si traduce sempre nel servizio. Ecco, come esempio pratico di servizio fatto nella gratuità e anche nel non riconoscimento da parte della gente tante volte, non sempre, a volte è riconosciuto, è quello dei medici o anche del personale sanitario, infermieri o di servizio che, dovendo venire proprio per il loro servizio, a contatto quotidianamente con tantissimi portatori del virus, ecco, rischiano quotidianamente, al di là di quello che potrebbe essere la ricompensa del loro servizio con lo stipendio. Ecco, solo per dire un esempio, però, ecco, l'esempio più grande è Gesù che ha detto chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? io però sto in mezzo a voi come colui che serve. Ecco, lasciandoci da questa parola continuando a meditare nel cuore, ecco, facciamo anche noi una preghiera. Vieni Gesù, riempimi di te, ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore, donami tutto te, e con te donami le tue virtù, amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore, grazie Gesù, grazie che io sono qui, sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono, vieni da me, che io vengo da te, e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola,